Capricorno, che si sia trattato di referenti poco disponibili nei tuoi confronti o di lungaggini burocratiche, devo dire che qualcosa inizia a muoversi a tuo favore. In amore, un partner esigente ha chiesto scelte più nette sul lavoro oppure un passo importante nella relazione. Qualcuno potrebbe farti capire che è interessato a te.